ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay it dopo il primo video e le live che avevo fatto ad agosto voglio portarvi un altro video su new world dove voglio parlarvi un pochino di quello che sono arrivato a concludere finora ovviamente questo è un parere mio e sono ben aperto magari qualche parere anche vostro sotto nei commenti nel caso in cui io mi sbagliasse riguardo a qualcosa mi sono fatto un'idea e soprattutto mi sono giocato un pochino non sono andato avanti tantissimo ma abbastanza da stufarmi del gioco e in questo video voglio andare a spiegarvi il perché quali sono le mie paure le mie preoccupazioni le cose che mi sono piaciute meno quello che vi avevo già detto nel video al rilascio del gioco a parte i problemi di server che ormai sembrano non esserci più nel senso che hanno aperto un sacco di server italiani cosa che tra l'altro non è mai successa nell'epoca degli mmorpg moderni e neanche vecchi e allora la cosa che avevo detto la cosa assolutamente ultra positiva è il fatto del combat mai si era vista si era visto un combattimento del genere un po stile souls like dove potete andare a combattere rotolando colpendo i nemici e ricaricando il mana andando anche a sbloccare le vostre armi quindi le potete equipaggiare una dopo l'altra farle salire di livello e andare di conseguenza a sbloccarne delle abilità in questo caso il bastone del fuoco e poi mi fa mandare la palla di fuoco mi fa mandare una zona così mi fa mandare una danno ad aria ai nemici è tutta una cosa che dà estrema soddisfazione poi che altro dire che altro dire c'è un ottimo sistema di gathering davvero eccezionale perché in un mondo veramente immenso e sembra essere solo un terzo della mappa finale potete andare a scavare a raccogliere erbe a tagliare alberi a scavare minerali a scuoiare animali potete fare veramente di tutto e la cosa interessante che adesso vi mostro è quella del crafting perché il crafting è anch'esso interessante intrigante e mi ha ricordato subito ultimo online vi prego di seguire perché poi vi spiegherò anche il motivo che mi ha fatto un pochino stufare del gioco ma poi magari può essere una cosa provvisoria può essere una cosa passeggera oppure posso sbagliarmi riguardo a tutto il gioco mettiamo ad esempio la creazione delle armi anzi ancora meglio la creazione degli strumenti da lavoro perché io devo creare gli strumenti da lavoro perché gli strumenti vedete io più salgo di livello in questo caso sono a 34 a 34 io aumento il mio range di creazione voglio creare un coltello da scuriatura di ferro un falcetto di ferro esempio io ho la possibilità di farlo da 200 a 235 200 è un punteggio base per il livello dopo il 10 ho basse probabilità di creare un vantaggio io vado a usare queste cose che posso trovare posso trovare questi oggetti che lo potenziano e in questo caso questo oggetto specifico gli da disciplina del dell'orticoltore quindi dovrebbe darmi una un bonus per questa cosa ma anche volessi fare una cosa ancora più interessante piccone da estrazione gli vado a mettere l'estrazione di azot però non lo posso mettere vediamo se lo posso fare su qualcosa di specifico in modo da no scuriatura di ferro neanche allora facciamo il falcetto dove gli metto questo vantaggio qui inoltre posso usare l'azot l'azot è una risorsa che posso rimediare in giro ma non lo posso fare posso mettere solo se non metto un vantaggio perché non sono ancora abbastanza bravo mettiamolo ho una probabilità di ottenere un vantaggio io vado la creo e mi va a creare un oggetto di buon livello non il massimo che potevo fare e ho fatto altri punti esperienza ho creato un oggetto che è più robusto nel normale così che io posso andare a farmi tutti i miei tentativi necessari per crearmi un oggetto utile quindi ottenere in questo caso più esperienza nel fatto nel falcetto posso ottenere 35 per cento di possibilità di ottenere gli azot gli azot sono questi li potete usare per teletrasportarvi e per potenziare appunto il crafting ho fatto la stessa cosa per il coltello e per il piccone quindi io vado scavo gattero e ottengo azot che poi consumo craftando nuovamente così via più faccio queste cose più le mie abilità aumentano e più aumenta il mio livello di crafting quindi posso livellare in produzione quindi dalle arti arcane la cucina l'arredamento i mobili posso farli nella lavorazione che possono essere la fonderia farli in amare fare assi fare mobili insomma la tessitura fare vestiti fare tessuti la raccolta appunto che quella che invece facciamo fuori qual è il lato negativo ora ve lo voglio dire perché io avevo sentito dire tanto dalle recensioni da chi ci giocava non prendete il gioco per il pvp ok a me non piace andare magari a combattere contro altri nemici perché ovviamente ci sono sempre i pro che ti fanno il paiolo e allora lo giochi per il pvp un po come giocheresti qualsiasi altro gioco magari un world of warcraft e un final fantasy piuttosto che tanti altri e ve lo giocate così sì però vi dico che cosa si traduce potete giocare allo soli con amici è molto divertente devo dire però che cosa fate voi camminate le quest sono qua vicino poi diventano lontane sempre più lontane vedete quanto adesso sono lontane le mie non tantissimo però ne ho avute altre che erano qua in questa zona qui addirittura qua sotto qua nella nella zona lontanissima due chilometri quasi e nel mentre andate gatterate fate la missione che si riduce comunque a parla con tizio combatti coso di qui di là lo fate con amici vi divertite poi tornate gatterate prendete consegnate le quest fate i livelli potenziate l'arma andate avanti e tornate in città craftate depositate tutti gli oggetti poi ripartite per altre quest questo è so che ci sono degli eventi dei dungeon sono pochi al momento ci sono dei ride contro i mostri sono pochi al momento basta questo è il motivo per cui io mi sono un pochino stufato del gioco perché al momento il gioco è stupendo per quanto riguarda il combattimento come ho già detto è stupendo per il crafting per il fatto di poter potenziare l'arma il fatto di vedere tangibile una statistica su un'arma e rapportato poi al danno che fate all'efficienza che avete potete giocarlo da soli da soli è molto più difficile però se vi fate un buon equip siete bravi voi vi dà soddisfazione però al momento non ci sono altre cose da fare oltre andare parlare con gente uccidere mostri recuperare oggetti scoprire i foglietti della lore non c'è nient'altro potete ok c'è tutta questa parte di tasse così ma la cosa che vi deve spingere è fondarvi una gilda avere tante persone ed essere intenzionati a collaborare tutti insieme per conquistare i territori e avere magari delle ricchezze questo era il fulcro del gioco il pwe no non è un punto focale del gioco e me ne sono accorto e mi sono accorto anche che le recensioni che lo dicevano avevano assolutamente ragione quindi mi è venuto un po noio perché ho detto non voglio continuare a fare queste quest livellare e tanto so che poi alla fine arrivo a un punto in cui mi faccio i dungeon che sono quei 3 4 dungeon che ci sono e basta non ho altre cose da fare non ho le mount da collezionare non ho altre attività secondarie da fare sì potete comprare la casa ma al momento sembra essere basato soltanto su una meccanica di teletrasporto ve la comprate ve la redate vi ottenete magari trofei li mettete lì ma per me onestamente è troppo poco non voglio andare per forza in controtendenza però il gioco mi ha un pochino stufato già subito ci ho giocato una trentina di ore 36 per la precisione se escludiamo un paio di un paio d'ore di code facciamo 34 ho fatto vari personaggi che poi non ha senso rifarlo però provavo i vari server e devo dire che il mondo è bellissimo ma forse un filino piatto perché esempio avete potete interagire con tante tante cose tra virgolette nel senso che arrivate magari qui in questo villaggio ci sono delle case che hanno dentro dei forzieri e delle provviste nei forzieri cioè nelle casse di provviste sapete che dovete potete trovare vari oggetti tra cui magari che so carni cipolle ortaggi vari vi servono per la cucina quindi andate lì e li farmate nei forzieri ottenete cose più interessanti come ad esempio pezzi di armatura pezzi di armi ho trovato addirittura una ricetta per craftare un tavolo d'alchimia per la casa e quindi sapete già in automatico che dovete fare quell'armatura ok mi serve il ferro il ferro lo trovo in determinati punti più io salgo di livello di estrazione più li posso vedere in alto sulla bussola adesso sono salito in scogliatura vedo gli animali tipo i i tacchini e i conigli ho bisogno appunto di cose per la cucina so che vado lì nel villaggio nelle case trovo qualcosa poi so che nelle rovine magari trovo dei forzieri con dentro delle cose quindi vado lì farmi mostri è tutto un farming continuo per poi non avere nulla di ecco ma questo non voglio dire che non possa essere divertente perché la gente ci gioca voglio solo dirvi che se volete giocare da solo non avete tanti amici con cui giocarci o comunque non avete l'ambizione di fare il pvp quindi fare sedi che sembrano essere comunque divertenti se vi piace il pvp se invece volete appunto giocare un qualcosa no io nel senso sarei tentato a questo punto anche per giocare da solo un domani unirmi magari una gilda anche avere cose da fare o un world of worldcraft non riesco a pronunciarlo stasera non lo so world of worldcraft o dato che ha fatto un po il suo tempo un po lo stanno criticando per la storia un final fantasy 14 per un discorso di ok in inglese si capisce abbastanza ma soprattutto perché lì ho la possibilità di fare una casa che comunque mi compro mi sudo mi compro l'asta a redo e poi ci sono una maglia di dungeon di cooperazioni di trofei e ci sono in ciò che ho da collezionare le mount che possono anche volare ci sono un sacco di città diverse tutte caratterizzate con un'infinità di lore il crafting anche lì è profondo cioè capite che quello è un time park è un sandbox cioè non un sandbox un pv un gioco pv qui siamo a un livello veramente basso secondo me a livello di pv questo è il mio parere ed è un parere che vuole essere indirizzato a quelle persone che sono attirate da questo sistema di combat che è praticamente unico ma hanno magari il dubbio di lo comprono vi dico crafting da soddisfazione assolutamente ho sempre detto il combat pure crafting combat il gathering sì però ecco quando se vi capita come a me di arrivare a un punto in cui dite ok mi prendo oltre a quest o che palle devo andare fin là per far cosa qua devo cercare in un forziere qua pure qua devo recuperare una spilla qui devo raccogliere la bile da dei mostri e qua sotto poi altre ancora cercare una pattuglia scomparsa ok c'è la storia ok è un po' doppiato però insomma ragazzi qua si poteva fare di più ma si vede che comunque il gioco era studiato per essere un pvp full loot all'inizio ed è stato cambiato in corsa secondo me questo gioco può migliorare può diventare veramente un giocone però devono lavorare tanto dato che prima lo hanno tolto dal full loot e lo hanno reso non più full loot ma solo pvp opzionale spero che adesso poi ci lavori non raggiungano cose ma io credo che se ne parli nel giro forse di un anno o due e quindi niente questo è il mio parere spero di sapere il vostro sempre parlandone così tranquillamente se poi mi dite guarda no ti sbagli perché qua poi cambia diventa così però quello che ho visto non dovrebbe però fatemi sapere che sono curioso di sapere anche il vostro parere ragazzi con questo io è tutto insomma vi saluto non ho parlato molto del possesso dei territori dei vantaggi che dà però si parla di tasse sia di produzione che di vendita e dove voi fate parte di una fazione che controlla la regione dove vivete dove producete dove commerciate è un vantaggio qua vedete che tutto viola qui i verdi stanno un pochino riprendendo e qua i viola stanno facendo bisogna fare delle missioni all'interno qui e poi assediare e gli altri devono un gruppo di vi potete candidare vi prendono e andate a difendere ovviamente col vostro equipaggiamento che avete craftato che avete creato e le vostre skill manuali fatemi sapere ragazzi qua sotto nei commenti e alla prossima e ciao ciao